dunque benvenuti a tutti vi ringraziamo per essere presenti in questa aula virtuale del collegio ghisieri credo che la maggior parte dei presenti già ci conosca per chi non ci conoscesse visitate il canale youtube del collegio ghisieri che non può sicuramente competere con quello del nostro ospite ma speriamo di iniziare a costruire qualcosa questa sera nostro ospite appunto sergio pistoi e parleremo poi del suo canale e condurrà l'incontro francesco mangiapane cui passi immediatamente la parola per introdurre buonasera buonasera a tutti anche da parte mia mi presento brevemente sono stato chiamato dal collegio nella mia qualità di semiologo esploratore dei social media per moderare questa serie di tavole rotonde legate alla ai influencer più noti della rete oggi vi presento sergio pistoi che è uno dei più noti divulgatori scientifici attivi anche in rete sergio è un biologo laureato all'università di torino a un dottorato giornalista a una carriera prestigiosissima di divulgatore scientifico sia contestate americane leggo appunto addirittura con reuters ma anche con testate italiane come panorama corriere della sera la stampa e e via dicendo la sua il suo canale youtube assolutamente conta migliaia di iscritti e sul in rete soprattutto su youtube si occupa appunto di spiegare e di far conoscere le questioni scientifiche ai suoi spettatori ovviamente nell'ultimo periodo protagonista assoluto diciamo delle sue delle sue puntate anche se non il solo è il tema del coronavirus che appunto Sergio si occupa di esplorare su sui seguendo anche un po' l'attualità intorno a questa terribile pandemia quest'oggi appunto Sergio ci parlerà di questioni appunto legate al coronavirus con una breve lezione ed è per questo che a lui passo la parola grazie grazie francesco grazie marta buongiorno anzi buonasera a tutti io tra l'altro sono stato molto molto onorato di essere stato invitato qui da da ghislieri la vostra fama in realtà vi ha vi ha preceduto e quindi intanto grazie veramente per per questo per questo invito io siete stati troppo buoni francese stato troppo buono a dire che io sono uno dei più noti in realtà ce ne sono molti altri dei divulgatori più noti di me che hanno molti più molto più seguito di me io forse sono stato il primo in questa tutta questa brutta storia del coronavirus a fare qualcosa fare primo video divulgativo sul mio canale che avevo appena aperto io non avevo nessunissima intenzione di parlare di di coronavirus quando è iniziata la la pandemia mi sono detto non sono un virologo lasciamo che parlino le persone che se ne intendono di più poi ho visto che parlavano di tutti di più perfino i virologi dicevano tanti virologi dicevano un sacco di stupidaggini in tv allora detto vabbè proviamo a raccontare qualcosa e da quello che so io da biologo molecolare come è fatto il virus ho fatto questo primo video su come era fatto il coronavirus chiamandolo piccolo bastardo perché in quel momento mi veniva da chiamarlo così dopo torneremo francesco tu sei semiologo io dopo faccio io mi improvviserò io semiologo per dieci secondi e dirò e mi farò insultare da te sul significato del piccolo bastardo ma quindi questo video ha avuto subito un enorme successo e per i miei standard diciamo insperato perché ora mi sembra faccia 600.000 visualizzazioni o qualcosa del genere e lì ho capito che c'era qualcosa messaggi insomma attestazioni di di gratitudine perché finalmente ho capito che cos'è questo virus eccetera io in realtà avevo fatto una cosa veramente molto molto semplice e banale niente di di trascendentale per cui mi sono reso anche conto che c'era e c'è ancora veramente un bu una voragine enorme nella comunicazione di questa pandemia detto questo allora io di tutte le domande che mi sono arrivate faccio proprio un'apertura di pochissimo cinque minuti dieci minuti giusto per raccontarvi quella a scelta fra le tante cose potrei partire da qualunque punto ma voglio raccontarvi l'argomento che secondo me che è emerso anche nelle vostre domande ma che secondo me è in questo momento è quello più forse un po più originale che di cui si parla meno ed è anche quello che guarda un po al futuro cioè anche alle prossime pandemie ed è quello di capire da dove arriva questo questo virus da dove arrivano queste pandemie soprattutto che cosa possiamo fare in futuro per evitare di ritrovarcele quindi diciamo nella lista delle domande che sono arrivate da me è un po il discorso del salto di specie che è un po riduttivo chiamarlo così sembra un po uno sport olimpico in realtà ci sono altri termini che adesso vediamo io per raccontarvi questa cosa parto da questo bicchiere qua è whisky e non è acqua no scherzo è acqua è un è un bicchiere allora se io faccio cascare ora non lo faccio perché ho la tastiera sotto faccio un disastro ma se io faccio cascare qualcosa immaginatevi questo bicchiere bello pieno raso io faccio cascare qualcosa nel bicchiere e ovviamente l'acqua straborda in inglese questa cosa c'ha un nome si chiama spillover cioè quando qualcosa trabocca si chiama spillover il salto di quello che noi chiamiamo salto di specie in italiano con questa locuzione che a me piace pochissimo gli inglesi lo chiamano spillover ed è molto più bello come come definizione per un motivo molto semplice perché che cosa succede realmente in natura succede non so quanti abbiano diciamo tra di voi background biologico scientifico eccetera ma non importa cercherò di renderlo il più semplice possibile per tutti allora piccolo il piccolo bastardo lo chiamo io l'ho chiamato piccolo bastardo qualcuno giustamente mi ha fatto notare ma guarda sergio tu stai attribuendo a un virus chiamandolo piccolo bastardo una caratteristica che i virus non hanno i patogeni non hanno non sono buoni o cattivi non non nascono per fare le bastardate a noi poi dopo succede che noi chiaramente la percepiamo come come un danno reale e lo è ma nessun patogeno e nessun essere nessun organismo nasce e vive per fare del danno agli altri tanto meno un virus qual è il nirvana cioè qual è il come dire poi io l'ho chiamato lo chiamo piccolo bastardo lo stesso perché ormai è giusto così però è vero questa persona aveva ragione il un patogeno come un virus avrebbe una sola una sola uno solo un solo scopo evolutivo cioè quello di fare più copie possibili di se stesso e andare avanti così il più possibile quindi di trovare il maggior numero di ospiti possibile su cui fare questa cosa perché ricordiamoci che i virus a differenza di altri organismi come ad esempio i batteri con cui vengono spesso confusi dalla stampa sono dei parassiti obbligati cioè un virus non è capace a fare nulla anche per riprodursi ha bisogno di entrare dentro una cellula vivente che può essere una delle nostre o qualunque cellula del mondo animale compresi batteri perché esistono anche i fagi che sono i virus che attaccano i batteri ha bisogno di trovare qualcuno da parassitare questo ovviamente vi rendete conto che dal punto di vista naturale non è una cattiveria e non è qualcosa che è necessariamente dannoso anzi nella maggior parte dei casi questo parassitismo non fa nessun danno o pochissimo danno perché perché il nirvana del virus cioè proprio il paradiso di un virus come per esempio il coronavirus non è quello di ammazzare tutti quelli che incontro di farli stare male al contrario è quello di avere un sacco di ospiti che si infettano e stanno benissimo e se ne vanno in giro a infettare altri ospiti e qui entra in gioco il discorso dello spillover e della come dire e del salto di specie perché quella che spillover così sapete anche come si scrive in inglese quello che succede nella realtà di queste pandemie è che si chiamano scusate il termine scientifico è zonosi cioè il l'ipidemia di covid 19 è una zonosi la definizione di zonosi è quella di una malattia di un patogeno quindi di una malattia che non ha origine nell'uomo ma origine in un serbatoio animale da qualche parte e per mutazione e quindi per salto di specie a un certo punto riesce a passare all'uomo questa è una differenza molto importante che spesso viene non viene raccontata bene qui per esempio voi avete una lista di di patologie che quindi di malattie che non sono tutte virali che non sono tutte molto conosciute endra nipa sono dei virus che hanno fatto molti danni continuano a fare il vaiolo virus ebola l'aiz brucellosi queste sono tutte tranne una poi volendo potete giocare a trova l'intruso tutte tranne una sono delle zonosi cioè se voi andate a vedere la storia naturale di tutte queste malattie tranne una che è facile che è il vaiolo ve lo dico senza farvi il quiz queste tutte queste malattie hanno in qualche modo un serbatoio naturale non è un caso che io qui vi abbia messo il vaiolo se voi avete seguito un po la storia recente della medicina io qua per esempio io sono nato forse qualche anno prima di voi qua nel braccio c'è un bel un bel segno del vaccino del vaiolo un bel bozzo del vaccino del vaiolo vaiolo è stato la prima malattia per la quale si è già alla fine del del settecento si si vaccinava vaccino deriva dalla vacca dalla mucca se l'avessero inventato in australia coi canguri si chiamerebbe cangurazione ma il vaccino è una malattia che il vaiolo è una malattia che è stata debellata infatti non si vaccinano neanche più le persone contro il vaiolo l'avrete notato perché a voi non vi hanno mai fatto credo la vaccinazione contro il vaiolo perché il vaiolo non c'è più si è estinto il virus del vaiolo perché si è potuto estinguere ed è stata la prima e finora l'unica malattia infettiva debellata dall'oms dichiarata estinta nella storia della medicina perché proprio il vaiolo perché il vaiolo non ha un serbatoio naturale il vaiolo è un virus che si trasmette solo da persona a persona finite vaccinate tutte le persone vaccinabili il virus non si trasmette più da una persona all'altra e si estingue finita lì noi non possiamo pensare di fare una cosa del genere per le zoonosi perché perché le zoonosi una volta che io adesso cosa succederà col covid 19 per esempio beh succederà che noi vaccineremo finalmente raggiungeremo prima o poi faticosamente la famosa immunità di gregge di gruppo data vista con la vaccinazione non circolerà più il virus in quella forma tra gli umani o circolerà in modo così minoritario ma continuerà a circolare nel suo serbatoio naturale da dove è arrivato da dove molto probabilmente è arrivato e dove continuerà ad esserci è la stessa lo stesso vale per tutte le malattie di questa lista e di molte altre quindi voi capite già da questa descrizione sommaria che stiamo parlando non più solo di medicina ma di un concetto che ha a che fare con l'ecosistema quindi di un concetto che ha a che fare con l'ecologia in senso lato non nel senso dei fricchettoni che sono ecologisti che usano la macchina elettrica dell'ecologia quella vera cioè del del mondo che ci circonda preso in senso considerando tutte le specie che ci che ci vivono qual è il serbatoio naturale della qual è sì qui qui c'è una presentazione che non c'entra niente vedete la mia amica che che ogni tanto viene nelle mie presentazioni allora qual è il serbatoio naturale del del covid 19 ancora non lo sappiamo con certezza nel senso o meglio l'origine il serbatoio naturale lo sappiamo sono certe specie di mammiferi come i pipistrelli ok dove sicuramente il virus che sicuramente fungono da serbatoio naturale insieme probabilmente ad altre ad altre specie sull'origine precisa del virus ancora non in realtà non abbiamo la pistola fumante cioè non si non abbiamo la sicurezza che sia nato nel pipistrello passato all'uomo secondo questo schema che vi faccio vedere qui ok questo è uno schema generico che per esempio però vale per la sars per la sars noi abbiamo ricostruito tutti i passaggi e sappiamo che è arrivata dai dai pipistrelli è passata all'uomo e poi ha fatto tutto il suo percorso di zoonosi sull'origine del precisa del di questo coronavirus ancora si sta e mi avete fatto delle domande su quello dopo se volete ci torniamo facendo insomma approfondendo però la cosa importante è che questo virus nei pipistrelli vive si riproduce senza nessun problema e senza causare nessun problema i pipistrelli cioè i pipistrelli sono tutti asintomatici portatori asintomatici tutti tutti quelli che si contagiano sono portatori asintomatici del coronavirus e siccome i pipistrelli vivono come pipistrelli quindi stanno azzeccati vicini uno all'altro in strati che si insomma gli escrementi passano da uno all'altro comunque hanno una vita molto molto intima molto vicina a enormi gruppi dentro delle grotte per esempio ecco che diventano un serbatoio naturale fantastico e per il virus guardate che questo è il massimo perché il virus può può infettare tranquillamente tutti i pipistrelli che incontra quando nasce un pipistrellino infetta pure il pipistrellino e quando il pipistrellino farà i pipistrellini infetterà pure loro quindi dal punto di vista evolutivo per il virus questa è una grandissima figata perché si parla di spillover e qui chiudo così dopo passiamo alle altre cose che cosa succede materialmente in questo spillover beh succede che un virus che era in qualche modo ottimizzato per dall'evoluzione naturale per vivere nel suo serbatoio naturale muta muta dal punto di vista genetico casualmente le mutazioni avvengono in modo assolutamente casuale e attenzione le mutazioni avvengono in continuazione cioè questo bicchiere qui con il pieno di pipistrelli e che pieno di virus dentro ai pipistrelli strabocca in continuazione cioè potenzialmente queste mutazioni avvengono di continuo nella scala temporale dobbiamo tenere presente che questi virus come i coronavirus sappiamo che vivono nei pipistrelli da migliaia di anni forse anche di più quindi non è non è che il coronavirus arriva dal nulla su una cometa marziana e estermina la popolazione mondiale sono virus che fanno parte del mondo naturale ed esistono nei loro serbatoi naturali magari da migliaia se non addirittura milioni di anni e finora perché finora non ci hanno mai dato fastidio beh perché le mutazioni in questo bicchiere avvengono in continuazione ma se attorno al bicchiere non ci sta nulla questi virus che mutano e che diventano potenzialmente in grado di infettare anche l'uomo e di vivere anche dentro l'uomo l'uomo non lo trovano e cosa significa questo che noi per migliaia di anni abbiamo vissuto lontano dal diciamo dall'habitat di certe specie selvatiche quindi in questo spillover la cosa importante non è che non avvengano le mutazioni che avvengono naturalmente in continuazione importante non trovarsi sotto sotto allo spillover nel momento in cui questo avvengono queste mutazioni avvengono ecco ecco il click diciamo ecologico che fa scattare queste pandemie negli ultimi anni specialmente noi cosa abbiamo fatto urbanizzazione e invasione degli 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 habitat delle specie selvatiche specie selvatiche come i pipistrelli pangolini eccetera eccetera portate vive nei mercati nei wet market asiatici per esempio tenute vive tutte insieme creando le condizioni perfette per i salti di specie voi capite che se io prendo dei pipistrelli presi nella foresta li porto in un wet market li metto dentro delle gabbie poi faccio una bella una bella piramide come fanno loro in questi ma in questi mercati dove ci metto al piano di sopra i pipistrelli al piano di sotto i pangolini sotto i gatti sotto i cani sotto i topini eccetera eccetera e li lascio lì tutto il giorno ragazzi cioè noi praticamente stiamo creando la famosa cascata dello spillover diventa matematico che alla fine questo passaggio di specie avvenga quindi questo è il primo passaggio poi ovviamente ci deve essere un altro tutto avviene tramite mutazioni genetiche del genoma del genoma del virus a volte bastano delle piccolissime mutazioni e poi l'altro passaggio importante ovviamente che ci vuole anche quello è non solo il passaggio che permette al virus di vivere e proliferare in un umano ma anche un un altro adattamento genetico che poi fa sì che ci si trasmetta lo stesso virus fra umani e a quel punto parte la pandemia questo passaggio secondo passaggio non è scontato nel senso che moltissime zonosi riescono a fare questo primo passo ma non riescono a fare o finora non sono riuscite a fare il secondo passo e cioè passare da uomo a uomo quando tu hai una zonosi che riesce a passare da uomo a uomo hai una situazione potenzialmente pandemica è sicuramente molto preoccupante questo per dirvi ragazzi che noi adesso siamo alle prese con questa pandemia qui ma il motore che spinge le pandemie è sempre in moto e se noi non fermiamo questo motore qua noi continuamente ci ritroviamo e periodicamente ci ritroviamo ad affrontare nuove pandemie che ci sono state noi negli ultimi 15 anni questa è la terza pandemia di coro la seconda pandemia di coronavirus perché c'è stata anche la salsa la terza pandemia grande perché c'è stata anche la mers più tutte le varie epidemie ricorrenti di influenza di influenza aviaria per esempio in questi giorni si riportano le cronache riportano che in russia per esempio sono trovati nuovi ceppi di influenza aviaria che hanno già fatto un nuovo un nuovo salto di specie saranno in grado di infettare anche da uomo a uomo lo vediamo lo vedremo ma ecco queste cose non sono arrivate dalla luna queste cose si sapevano erano prevedibili e fanno parte del nostro mondo i virus fanno parte del nostro mondo naturale ecco perché a me fa sempre piacere poi quando vado per esempio nelle scuole ricordare ai ragazzi e agli insegnanti che cosa di che cosa si parlava prima che le scuole chiudessero prima della pandemia si parlava di questa roba qui cioè del friday's for future di un discorso che comunque era attento all'ambiente io non sono per l'ambientalismo di facciata e per quello un po come vi ho detto un po da fricchettoni sono un biologo quindi per me l'ecologia significa conoscere studiare e rispettare gli ecosistemi perché altrimenti ti si rivoltano ti si rivoltano contro per un discorso diciamo puramente non tanto morale ma puramente utilitaristico noi in questo momento viviamo in una bomba ecologica che è quella delle pandemie con un motore pandemico che continua a girare e tra l'altro io veramente vi consiglio se non l'avete letto di vediamo se lo trovo un libro che è stato scritto molto prima della pandemia questo qua di david quannem non so se lo se lo conoscete david quannem che è un è un giornalista scientifico io ce l'ho sul kind è un giornalista scientifico molto bravo che nel 2015 credo quindi molto prima di questa pandemia ha scritto questo libro che si intitola spillover lo trovate anche tradotto egregiamente in italiano e dove a un certo punto fa la previsione tipo nostradamus dopo aver parlato con un sacco di esperti essere andato insieme a loro in asia nelle grotte a cercare i pipistrelli eccetera dice beh noi avremo sicuramente delle pandemie e le prossime pandemie che arriveranno saranno o di virus influenzale oppure di coronavirus e non è che non è che ci aveva la sfera di cristallo david quannem era uno che era andato dagli esperti gli aveva chiesto che cosa succedeva e aveva capito che quello era il risultato scontato quindi questo diciamo ho voluto iniziare con questo con questo argomento perché secondo me quando questa pandemia sarà finita noi dovremmo pensare alle prossime che arriveranno quando io dico queste cose la gente fa i gesti apotropaici e dice sei un sporti sfiga ma non è che porto sfiga è che così lo dicevano anche a david quannem nel 2015 non è questione di sfiga è questione proprio di matematica e di statistica in cui mi fermo lascio e lascio a francesco e a voi le le domande le quelle costatazioni diciamo grazie Sergio di questa tua bellissima introduzione che mette un bel po di carne al fuoco di allegria di allegria non saprei esatto diciamo che i tempi che stiamo attraversando non sono esattamente beh ai noi allegria una prima questione che ti volevo porre è sulle trasformazioni della sfera pubblica ecco se un se qualcosa è cambiato nella nostra sfera pubblica a pro è proprio a proprio a che fare con questa nuova figura del virologo che appunto noi non eravamo abituati a sentire al telegiornale come una sorta di opinion leader di influencer tu questa cosa appunto come come la valuti che secondo te è un segno di cui tenere conto ecco tu mi stai triggerando proprio quanto tempo abbiamo su questa cosa perché stai proprio mi stai mi stai girando il dito nella piaga cioè allora intanto biologi in realtà più che biologi questi sono quasi sempre medici o comunque e non lo dico non lo dico come diciamo come battuta sulla corporativa ma c'è un c'è un c'è anche un motivo diciamo di di come dire prevalenza di certi certe categorie specialmente quella medica in italia nel dibattito pubblico cioè se sei medico puoi dire quello che ti pare il biologo deve fare le analisi deve stare zitto fare le analisi delle urine e non deve parlare diciamo in italia in molti strati del dibattito siamo rimasti ancora un po' in questa a questo livello qui diciamo in questo paese si vive ancora un grandissimo paternalismo sanitario che non è la dittatura sanitaria del cavolo di cui si parla nei social paternalismo c'è e diciamo la classe medica non non aiuta nel non è molto spinta a cambiare questa cosa invece la cosa che si è vista prepotentemente durante questa pandemia è l'entrata in scena del punto degli esperti chiamiamoli così dei degli scienziati perché poi ci sono virologi epidemiologi c'è un po di tutti medici biologi c'è un po' di tutto lì dentro che si sono affacciati direttamente alla comunicazione pubblica ed è per me un po' io che io che sono pure ricercatore sono stato ricercatore e che lavoro tantissimo con il ricercatore aiutandoli a comunicare lavorando con i progetti di ricerca europei bla 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 per me questa è la realizzazione di un incubo nel senso che tanti ricercatori che si buttano senza intermediazione sui social a a interpretare quotidianamente eventi complessi ripeto quotidianamente o più volte al giorno sono dal punto di vista comunicativo è un controsenso è una è un pericolo un danno per in genere un problema per la comunicazione perché perché intanto non è il loro lavoro cioè voi molti di voi sono al collegio e fanno fanno ricerca o faranno ricerca la ricerca è una roba che ti impegna 24 ore su 24 quasi dalla mattina alla sera io quando ero nel laboratorio non avevo a momenti neanche il tempo di scrivere l'email quando vedi questi ricercatori che passano le giornate su facebook o su twitter e quando scrivi qualcosa questi ti rispondono in tempo reale qualche domanda bisognerebbe farsi sul loro ruolo vero nell'ecosistema cioè queste persone sono persone il cui ruolo nell'ecosistema anche contrattuale sarebbe quello di stare in laboratorio e casomai trovare le soluzioni ok e raccontare le soluzioni che stanno trovando non non quello di fare i commentatori primo primo problema secondo problema purtroppo qua scatta il problema dell'ego personale di tanti che si ritrovano a diventare eroi in cinque minuti ve lo dico perché questa cosa succede davvero cioè tu fai oggi in pandemia tu fai un bel video su ve l'ho detto è successo anche a me tu fai un bel video fai un bello spiegone che in quel momento ci vuole la gente alla gente piace tu nel giro di due giorni diventi beniamino del web ok ci vuole poco anche perché essendo gratis tutto quello che è gratis e dove non devi pagare un biglietto non ti costa niente seguire quel profilo in più sui social per cui tutto gratis la gente ti segue ti viene a cercare e cosa succede e fin lì va bene però poi che cosa succede che diventi un punto di riferimento anche per i media perché la pigrizia di moltissimi media un po la pigrizia un po il fatto che ragazzi i giornalisti in italia per la maggior parte sono freelance e se volete facciamo un quiz voi sapete quanto viene pagato un articolo di quelli che leggete sui quotidiani normalmente scritto da da un collaboratore esterno su quotidiani italiani secondo voi un articolo che parla del coronavirus quindi attualità sul coronavirus intervista ricercatore bla 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 magari prima pagina qualcuno vuole sparare una cifra più o meno che mi risulti le interviste raramente le pagano mentre tu come intervistato ovviamente non vieni pagato ma il giornalista che scrive proprio il pezzo ve lo dico io perché io non lo faccio parliamo di 30 euro parliamo di 50 euro io vi potrei raccontare le solite diciamo banalità su sì bisogna che i giornalisti parlino di più quei ricercatori studino di più la scienza tutto vero ma il problema non è centrale non è quello perché noi in italia di giornalisti scientifici preparatissimi e bravissimi ne abbiamo tanti e il problema è che non li vediamo perché fanno altro nel senso che se tu sei bravo preparato e sai le cose di sicuro non ti metti a scrivere un articolo per 50 euro giusto o per 30 euro a chiamare tizio caio perderci una giornata quindi che cosa succede che tutte queste cose vengono fatte così nel minor tempo possibile quindi da una parte c'è una pigrizia da un'altra parte c'è un sistema proprio economico di produzione della notizia che ormai va a pescare proprio sul sul fondo del barile e quindi cosa succede che nel momento in cui tu identifichi uno che ti sembra disponibile non ti sembra che dica delle grosse cazzate cosa fai la ruoli la ruoli subito e se questa persona è disponibile h24 e tu alzi il telefono e la trovi per il giornalista è bingo quindi si creano questi fenomeni mediatici per cui le stesse persone sempre poi vedete vengono invitati nei talk show dicono le cose che chi ci si aspetta che dicano servono spesso solo da da detonatore per far partire poi la come dire la discussione la polemica degli altri guardate che capita anche a me cioè non sono famoso come gli altri per carità ma nel circo diciamo nel circo dell'informazione ogni tanto ci entro anch'io adesso succede il salto di specie lo spillover cioè succede addirittura che molti giornalisti neanche ti chiamano cioè tu scrivi una roba su facebook un post su facebook e il giornalista prende quello che tu hai scritto su facebook e mette il virgolettato nel pezzo a me è successo questa settimana due volte sergio pistoli dice questo sotto non è che mi hanno chiamato e mi hanno intervistato questi ovviamente si badano guardano bene dallo scrive da scrivere l'ho trovato su facebook ma per il lettore è un'intervista e io che dico una cosa la realtà è che questa questi giornalisti sono andati su su facebook hanno trovato quel post lì ne hanno preso un pezzettino il pezzettino che gli interessava loro di una roba che io scrivo dei post chilometrici hanno preso un pezzettino di di tre righe perché gli interessava quello per nella loro tesi e ci hanno messo quello è quello che io chiamo il polpettone dell'informazione c'è sempre stato c'è sempre stato però la novità di questo di questa pandemia è che è la prima pandemia che si gioca prepotentemente sui social dove pure i giornalisti vanno a pescare sui social e dove c'è una come dire una generazione non una generazione ma insomma gruppi anche organizzati tra di loro che si sentono si si riconoscono tra di loro di scienziati che che ci qualcuno lo fa diciamo per spirito di servizio per molti è diventato anche diciamolo tra di noi un'opportunità di visibilità pazzesca quindi il discorso è molto più complesso dal semplice del semplice a c'è tanta gente che non conosce la scienza ascoltiamo gli scienziati che la sanno e tutto a posto no è molto è molto diverso gli scienziati purtroppo io lo dico con 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 dolore anche in questa in questa infodemia quindi questa pandemia dell'informazione che che è evidente è evidente a tutti è purtroppo hanno giocato e stanno giocando anche loro un ruolo non non indifferente non tutti ma alcuni di loro sì ma secondo te rispetto questo assetto che hai descritto così brillantemente in realtà non cambia il modo in cui si costruisce il racconto della scienza cioè la divulgazione scientifica ha cambiato pelle il mio riferimento è soprattutto che ne so alle classiche trasmissioni che facevano che ne so alla RAI prendi Piero Angela no qual era il il portato di queste trasmissioni intanto che era un racconto rassicurante mentre quello di quello di nostri giorni è molto legato alla all'idea della paura e dall'altra parte era anche se vogliamo in un certo senso un racconto legato alla ad una sorta di passione ottimista dell'orgoglio cioè Piero Angela ogni volta che faceva lo spiegano e lui in realtà era parta parlava sempre diciamo da un punto di vista per cui l'umanità poteva essere orgogliosa delle ricerche scientifiche quindi ricostruendo come una sorta di genealogia cioè andando all'indietro quali fossero stati i passi compiuti dalla scienza per portare l'uomo fino a quel punto lì mi sembra che in realtà questo approccio ottimista sia stato totalmente rovesciato nella nostra contemporaneità come come vedi questa questa ricostruzione ti appatta come si dice sì appatta nel senso che hai detto bene è cambiata la pelle diciamo la pelle dell'ecosistema dell'informazione scientifica è cambiata tantissimo dai tempi in cui noi ci siamo nutriti di quark super quark eccetera però Angela che è tuttora veramente un mito e un personaggio di grandissimo spessore nella divulgazione ancora oggi che è anziano e dice poche cose ma quelle poche cose che dice sono sempre molto molto puntuali però la divulgazione alla piero Angela aveva una caratteristica cioè quella di tenersi bene alla larga sempre dalla contemporaneità intesa come evento che sta succedendo in quel momento cioè fa parte quella divulgazione alla super quark per capirci fa parte di quella scuola di divulgazione ottima su cui siamo abbeverati tutti e che ha prodotto anche allievi bravissimi cioè lui ha sempre fatto quella divulgazione che è che che racconta a al pubblico cose che ormai dal punto di vista della discussione scientifica sono più o meno sono più o meno assodate prima di parlare di internet ci ha messo 15 anni eh ma a me questa cosa ancora aspettiamo non mi convince così tanto cioè è un altro tipo di divulgazione poi bisognerebbe anche distinguere all'interno della comunicazione scientifica i vari tipi di eh eh di attività perché c'è la divulgazione e c'è il giornalismo scientifico che sono due cose diverse quando io faccio il divulgatore poi all'interno della divulgazione ci possono essere tanti eh tanti cappelli il poi esiste il giornalismo scientifico che è ancora una cosa diversa perché il giornalismo scientifico è eh andare a cerca a fare il giornalismo e cioè andare a a a indagare anche su cose che magari agli scienziati non fanno piacere e qui entra un altro cosa un'altra cosa importante che tu Francesco hai un po' richiamato e che io io gli do un nome più preciso perché nel mio ambiente si chiama così ed è quello che si si chiama il cheerleading cioè il fatto che l'ambiente la comunità scientifica specialmente quella italiana quella anglosassone vi assicuro molto meno io lavoro molto con le testate anglosassoni dal giornalista scientifico si aspetta appoggio incondizionato cioè quando la critica di cui io poi spesso vado fiero che che a me e ad altri colleghi fanno gli scienziati ma voi voi non state facendo l'interesse della scienza voi andate a cercare il pelo nell'uovo quando ci criticate poi dopo la gente non ha più fiducia nella scienza la gente deve aver fiducia a caso mai nel metodo scientifico non nella scienza che è un concetto che non esiste esiste il metodo scientifico ma la fiducia negli scienziati persone nei ricercatori a quella ci devono pensare loro o eventualmente i loro uffici stampa cioè il giornalista scientifico anche il divulgatore non è lì per stare con i pompon a fare e scienza che bella quanto sono bravi gli scienziati ecco questa cosa del cheerleading è una cosa che su cui spesso in buonissima fede molti colleghi cadono e molti diciamo in italia molta della comunicazione scientifica purtroppo è appiattita su quello che si chiama il debunking cioè sul fatto di andare a prendere le cose e spiegarti perché quella roba lì è una cavolata però non è polemica è proprio è una scuola può essere una scuola il debunking però poi devi passare a fare altre cose a raccontare tu a dettare tu l'agenda cioè a me non piace fare il debunking anche perché non mi piace passare tutto il giorno a sfatare le cavolate che hanno inventato altri perché allora sono altri che dettono a me piace svegliarmi la mattina incuriosirmi su qualcosa e studiarmela e poi trasmettere questa curiosità questa meraviglia diciamo agli altri questo per me la divulgazione il debunking è un'altra è un'altra cosa in italia si confondono tutte queste cose che io ho detto si fa spesso un gran polpettone e si mettono insieme si confondono quando invece sono cose molto molto diverse tra di loro eh come capite non vincerò mai il premio simpatia no ma invece al contrario ti sei con specialmente tra gli accademici la nostra fiducia proprio il fatto di aver ricostruito in maniera molto verosimile eh come stanno anche i rapporti di forza all'interno della comunicazione scientifica che appunto non è non sono tutte rose e fiori e anche quella francesco è un ecosistema cioè questo quella cosa che spesso si non si vuole vedere è che anche la comunicazione come tutte le attività umane è un ecosistema dove devono vivere tante figure e dove deve esserci una biodiversità diciamo che il problema della verità scientifica viene ribaltato eh in quello della verità come atto di potere e che quindi eh eh molto difficilmente riesce a conquistare eh eh consenso e a ricostruire esattamente il nodo eh sostanziale di eh della nostra discussione che è quello della fiducia di cos'è eh come si dice batti punti sul tavolo insomma sicuramente non non conquisti eh praterie diciamo di di consenso insomma che anche questo eh bisogna sottolinearlo a questo punto io Marta se siete d'accordo passerei la eh la parola agli studenti per le loro domande che come diceva che come avevamo già anticipato saranno nel merito delle questioni più spinose che attanagliano eh la nostra vita con il virus e Sonia riesci ad accenderti il microfono? Sì sì se mi sentite dovrebbe essere tutto a posto. Allora noi ragazzi avevamo pensato di fare a Sergio qualche domanda sul salto di specie che è appunto il tema che ha che ha che ha trattato ora ampiamente. Io volevo chiedere al nostro relatore nell'ambito appunto della consapevolezza eh che siamo nell'era delle pandemie e che come già Sergio ci ha detto il salto di specie è alla fine dietro l'angolo eh la mia domanda è se è quindi possibile prevedere e monitorare anche con quali tecniche a livello molecolare molecolare eh quali possono essere le famiglie di virus più propense ad effettuare il salto di specie e se già si sa eh in questo periodo quali sono i virus più propensi a insomma dare origine a una pandemia come ha fatto Covid-Sars ecco. Eh sì allora ehm è possibile premetto che ovviamente io non sono un esperto di di diciamo di virologia molecolare che è diciamo è l'area che che si interessa soprattutto a questa cosa però seguo il lavoro di chi di chi la fa e cerco di stare aggiornato e lavoro anche con un progetto europeo sul coronavirus dove ci sono persone che in realtà fanno questa roba eh si fa ehm se volete vi faccio anche vedere se voi andate su internet anche i virus si evolvono come noi vedete c'è un albero evolutivo quindi una prima cosa che si fa è tenere d'occhio questi alberi evolutivi e come si fa? Eh bisogna andare eh qui qui siamo nel mezzo di una pandemia quindi si va nei pazienti si va nelle persone ogni tot tamponi che vengono fatti alle persone tot tamponi positivi bisognerebbe sequenziarne il più possibile cioè leggere la sequenza del virus in modo da mandare i dati in questi in questi database noi in Italia lo facciamo troppo poco altri paesi lo fanno più di noi però vabbè non importa quindi eh però quando non c'è la pandemia questa cosa dove la fai? La fai nei serbatoi naturali cioè devi andare proprio lì che ne so c'è ci sono dei dei ricercatori dei gruppi di ricerca che periodicamente si si vestono si bardano vanno nelle grotte dove ci stanno i pipistrelli e prendono campioni pigliano catturano i pipistrelli li prendono David Quenham lo racconta molto bene in questo nel suo libro perché lui ci è andato insieme insieme ai ricercatori ok quindi questa è un'altra cosa che fai poi naturalmente c'è una rete di sorveglianza a livello ormai praticamente globale che monitorizza tutti i casi eh di che possono essere riferiti alla pandemia i casi che vi ho detto poco fa de della influenza aviaria persone colpite da influenza aviaria eh sono stati notificati dalla Russia all'OMS cioè l'OMS ha un sistema di notifica dove tutti i paesi sono sarebbero tenuti a notificare certi tipi di patologie certi tipi di casi che possono essere riferiti a a a patogeni eh virali o o o zonosi quindi c'è un sistema molto complesso anche di monitoraggio c'è lo studio dei eh delle varianti eh virali eh detto questo noi non non possiamo mai prevedere a priori quali saranno le nuove varianti che emergono e quali saranno le mutazioni che emergono perché essendo casuali noi eh non lo sappiamo il virus come tutti gli organismi si evolve eh ad ogni generazione eh ha delle mutazioni casuali che che fanno un'evoluzione una una che vengono selezionati dalle dalla dalla selezione naturale e quindi si adattano all'ambiente in cui vivono eh non ovviamente le mutazioni non nascono con uno scopo preciso ma le mutazioni che rendono il virus meno efficace eh vengono eliminate dalla selezione naturale e per quello che per esempio le varianti che noi vediamo più numerose sono quelle che in questo momento permettono al virus di essere più infettivo ok ce ne sono sicuramente tantissime eh che rendono anzi la maggior parte renderanno sicuramente il virus meno infettivo ma non le vediamo perché se è meno infettivo viene soppiantato da quello che funziona meglio quindi questo è è quello che 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 viene fatto ovviamente se mi chiedi mi chiedete bastano le risorse cioè basta fare quello che facciamo io non lo so non so quanto viene fatto probabilmente non abbastanza e soprattutto come ho detto prima bisogna visto che si tratta di eventi che noi possiamo prevedere che succederanno sappiamo che succederanno come terremoti ma non sappiamo esattamente come quando dobbiamo metterci nelle condizioni di stare il più lontano possibile dagli spillover quali sono secondo gli esperti i diciamo i rischi pandemici più importanti sono un po' quelli che ho detto prima quindi le due le due i due rischi sono virus influenzali specialmente aviari e coronavirus per le loro caratteristiche per le loro caratteristiche proprio come dire ecologiche perché hanno dei hanno degli ampissimi serbatoi naturali sono serbatoi che stanno vicino all'uomo eccetera eccetera questo ovviamente non esclude che ce ne possono essere poi invece molte altre però se uno ci dovesse scommettere dei soldi quelle lì tra l'altro abbiamo una biodiversità anche nella popolazione di chi fa domande tra cui bene degli studenti di medicina della corporazione medica ecco lì io avrei una domanda e sono della corporazione medica è una domanda un po più scientifica forse magari sarà banale però mi sono sempre chiesto mi ha sempre molto incuriosito come si fa a definire individuare qual è l'animale in cui avviene il salto di specie cioè mi immagino che quando viene individuato sequenziato il genoma del coronavirus o di un virus particolare come si fa a dire ok questa parte viene dal pipistrello dal maiale o da qualsiasi altro animale magari è molto semplice no no non è semplice per niente io non lo so io non lo so fare ovviamente perché non è il mio campo di nuovo non sono non sono un esperto specifico di quella roba ma mi sono studiato quello che dicono gli esperti ho parlato con gente che lo fa eccetera si fa diciamo la metodica è molecolare e genetica cioè il metodo principale è quello di andare a confrontare le sequenze genetiche nel corso con quell'albero che vi ho fatto vedere prima cioè si fa si fanno cose cose del genere no cioè si va a vedere si fa un discorso proprio evolutivo le mutazioni poi avvengono casualmente ma hanno un loro ritmo quindi si possono possono anche funzionare da orologio biologico ok e quindi si vanno a vedere le sequenze almeno quello che si è fatto finora si va a vedere per esempio la sequenza del virus che ha colpito l'uomo si guarda quello che si è trovato nei pangolini poi si va a vedere quello che c'è nel pipistrello e si vede quanto questa quanto queste mutazioni si accumulano nel tempo quindi se quello dell'uomo c'ha se quello dell'uomo sta qui vedete l'albero questo consideratelo questo è solo uomo ovviamente ma immaginate che ci sia un po' tutte le specie il processo è sempre un po' dicotomico no ogni volta che c'è una nuova mutazione si crea un nuovo ramo dell'albero eccetera quindi si tratta di andare dalla situazione attuale di andare indietro fare diciamo ingegneria inversa delle mutazioni e capire ci sono degli algoritmi statistici ci sono degli strumenti molto sofisticati che ti dicono qual è qual è il che ti fanno andare indietro in questa in questa mappa noi questa questo albero l'abbiamo costruito andando in avanti no quindi ci sono degli strumenti che ti permettono di andare indietro sono strumenti però statistici cioè non è detto che tu abbia sempre la pistola fumante e la certezza che le cose sono andate esattamente in quel modo infatti per esempio non so se avete sentito ci sono c'è stato un'equipe dell'oms che ha passato non so quanti giorni tante settimane in cina per cercare anche un po di era un discorso anche un po politico e tutto per cercare di svelare il mistero da dove arriva questo coronavirus sono andati un po di qua un po di là hanno fatto un po di campionamenti eccetera secondo me nelle grotte dove ci sono certi popolazioni di pipistrelli in questo momento non ci vuole entrare nessuno anche giustamente 15 me lo fa fare di andare lì a farmi a prendermi il coronavirus dei pipistrelli che magari una variante nuova eccetera però ecco hanno cercato di fare questa roba e non sono riusciti se guardate il report è un discorso probabilistico il virus può essere arrivato dai pipistrelli molto probabilmente quindi di nuovo in termini di probabilità l'idea è che pro molto probabilmente è arrivato è arrivato dai pipistrelli passando forse attraverso pangolini o altri mammiferi pangolini sono sempre sono mammiferi tipo sono un po sono degli insettivori no come i formichieri però ecco in questo momento per esempio noi non sappiamo qual è la vera storia naturale gli strumenti ci sono ma non non eravamo lì nel momento in cui è avvenuto questo salto di specie io non ci credo nel senso che ritengo molto più probabile un sa enormemente più probabile un salto di specie perché sappiamo che avvengono in natura e che non c'è bisogno dell'uomo per far sì che i virus passino da una specie all'altra però potrebbe anche essere un giorno che si scopre che è andata così le cose in realtà non cambiano più di tanto nel senso che il problema degli spillover rimane il fatto che ci sia stato incidente non vuol dire che uno l'ha fatto apposta incidente vuol dire che magari in un laboratorio avviene una fuga accidentale non che un virus è stato costruito apposta per fare quella roba lì quello diciamo è è complottismo ma l'incidente è successo altre volte nella storia può succedere può succedere ok quindi non è siamo sempre in una zona un po un po grigia io credo a me fa un po diciamo fa un po non è che fa sorridere però colpisce molto fin dall'inizio fin dall'inizio dell'anno già l'anno scorso febbraio quando io feci il primo video una delle domande più frequenti era ma da dove arriva sto video da dove arriva e io la gente diceva ma che vi frega nel senso in questo momento non è così importante ora noi siamo in un discorso ovviamente accademico quindi è logico è giusto parlarne e benissimo ma le domande su che ne so su youtube di così tanta gente che era così interessata a sapere da dove arrivava il virus a me un po mi ha stupito perché è come quando ti arriva un'ondata sulla barca che sei in mezzo all'acqua io l'ultima cosa che mi chiedo è da dove è arrivata l'onda me lo chiederò dopo intanto cerco di togliere l'acqua col secchio insomma ecco questo era un po il discorso però è importante che è importante che teniamo d'occhio che teniamo d'occhio questo ecosistema con tutti gli strumenti che la scienza e la tecnologia ci 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 offrono abbiamo domande sui vaccini io ne ho un'altra se sempre io è una domanda un po provocatoria perché in realtà è questa una argomentazione che spesso viene un po rivendicata da scettici dei vaccini o no vax ma come mai se solitamente sappiamo che per lo sviluppo di un farmaco e dal momento in cui viene individuato e creato e poi messo in commercio passano certi anni che spesso sono tempi prestabiliti per le vaccinazioni anti covid in realtà questi tempi sono sono molto accorciati è una bella domanda che che mi hanno fatto anche in tanti che merita una risposta diciamo arti mediamente articolata cioè è vero e cioè l'abbiamo ripetuto per anni che la sperimentazione clinica dura anche dura degli anni diciamo 5 6 8 10 anni ci sono vaccini come quello per l'hv che da ormai 35 anni aspettiamo e non arriva quindi cosa è successo è successo una cosa mai mai vista in realtà nella storia della medicina e cioè la compressione di di una serie di processi che prima erano più dilatati nel tempo cercando il più possibile di non sacrificare la validità e la sicurezza del dato che veniva fuori mi spiego meglio un trial clinico i trial clinici iniziano con la di un vaccino iniziano con i volontari sani a cui viene dato il vaccino si va a vedere tanto se non gli fa non gli fa male sei sicuro si vanno a vedere tutta una serie di parametri eccetera prima ancora di vedere l'efficacia dopodiché si prende questo questo candidato se ha passato la prima fase va in fase 2 dove si va a vedere se a quel punto è efficace e anche lì non è facile perché non è come una volta il primo vaccino contro il vaiolo eh Jenner ehm prese il ragazzino gli mise voleva prendere il suo figlio suo figlio appena nato poi in quel momento non trovò i campioni da dargli è vero allora prese un ragazzino eh prese le pustole di di una che faceva la mungitrice alla fine del settecento gli iniettò il l'apusto la l'apustola del del virus attenuato e poi dopo per vedere se funzionava prese il vaiolo vero e lo iniettò al ragazzino il ragazzino sopravvi sopravvisse lo fece nove volte per essere sicuro gli iniettò nove volte e ragazzi così era facile fare gli esperimenti adesso ovviamente non è che possiamo prendere la gente dargli il vaccino e poi iniettargli il coronavirus per vedere se se si ammalano o no quindi come si fa che questa è una curiosità che hanno in molti giustamente come hanno fatto a sapere che funzionava beh hanno preso trentamila persone eh gli hanno dato a metà gli hanno dato il vaccino a metà gli hanno dato un placebo c'è una roba gli hanno fatto un'iniezione fasulla di 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 salina e poi e poi gli hanno detto fate come facevate prima cioè fate la stessa vita che facevate prima è ovvio che statisticamente alcuni di questi si contagiano e quindi si va a vedere poi nel gruppo di controllo e nel gruppo vaccinato se c'è statisticamente una differenza ok quindi ci vuole anche lei un po di tempo per fare sta cosa questo non è comprimibile no questa questo step non si può comprimere cioè deve passare quel determinato tempo e ci vogliono quelle determinate persone ed è quello che ti dà la maggiore qualità del dato no cioè se io se io invece di aspettare che si ammalino ehm duemila persone apro apro la busta e e e chiudo l'esperimento quando se ne sono ammalate cento ho un dato che è statisticamente molto meno rilevante molto meno valido quindi lì il tempo far passare sufficiente tempo è importante però ci sono tutta una serie di di passaggi che si sono potuti comprimere molti di questi passaggi sono buro burocratici burocratici dire burocratico è brutto sono regolatori nel senso che hanno a che fare con le giustamente le le autorità regolatorie che devono decidere se se dare l'autorizzazione o no un'innovazione per esempio che è stata introdotta con questa pandemia è stata quella della cosiddetta rolling review cioè prima cosa succedeva che tu avevi un farmaco un vaccino nuovo dovevi fare tutta la sperimentazione ci mettevi qualche anno poi dovevi prendere tutti i dati fare un pacco così di dati mandarlo alle autorità regolatorie che ci mettevano un'altra sei mesi per leggerselo tutto e poi ti dicevano ok oppure no la rolling review consiste nel fatto che mentre tu stai facendo la sperimentazione un po alla volta mandi i dati aggiornati alle autorità regolatorie significa che le autorità regolatorie ma ai fa quelli fda lavorano praticamente h24 ma voi capite che questa cosa velocizza in modo enorme la situazione l'altra cosa è ovviamente la quantità di risorse senza precedenti che è stata messa su questa cosa cioè non c'è mai stata nella storia della medicina una come dire uno sforzo farmaceutico dove sono stati messi tutti questi soldi in anticipo cioè gli stati hanno hanno anticipato i soldi parliamo di miliardi di euro dandoli alle aziende dicendo io ti prenoto totte milioni di dosi di vaccino non so se ce l'avrai se funziona ce l'avrai verrà approvato tu ci dai queste dosi ok poi abbiamo visto che poi anche lì ci sono dei problemi ma l'idea è quella te li pago in anticipo quindi l'azienda non ha dovuto scegliere se rischiare la banca rotta investendo 10 miliardi su un vaccino che magari non funzionava oppure salvare l'umanità ok quindi questa è un'altra cosa che è successa la quantità di sforzo di aziende che si sono messe a farlo non abbiamo mai avuto adesso abbiamo circa 200 vaccini anti covid in diversi stati della sperimentazione sergio mi sa che è stata una discussione ricchissima ma si è fatta anche una certa come si dice perché sono le otto e un quarto ed è ora di cena io volevo ringraziare i tanti studenti che hanno partecipato a questo incontro volevo ringraziare te e il collegio per questa straordinaria opportunità di approfondimento che abbiamo potuto trascorrere insieme a proposito di coronavirus e divulgazione scientifica passo la parola a marta per un ultimo saluto io voglio solo salutare ringraziare davvero tantissimo è stato veramente iper interessante i ragazzi so che fanno un sacco di altre domande ma conosco i loro volti e vedo che iniziano ad avere la fame che li stavano divorando e peraltro ora è proprio il momento che il refettorio sta iniziando a pressare quindi si va a mangiare in collegio e anche voi che avete il refettorio io mi devo fare scena da solo e devi finire a mangiare il nostro refettorio appena sarà possibile perché ti mangia bene sì vi prenoto anch'io vi aspetto grazie davvero ancora infinitamente grazie ragazzi e domande per la prossima occasione arrivederci a tutti e ancora grazie Sergio ciao grazie a voi è stato un piacere grazie mille grazie ancora ciao grazie grazie a voi è stato un piacere grazie a voi è stato un piacere grazie a voi... ciao